Stiamo lavorando bene ma siamo ancora impegnati. Non ci siamo mai fermati neppure durante la notte. Così i carabinieri circa le indagini sulla morte di Huair Ramirez Seipo, il 38enne colpito alla gola da un'arma da taglio, probabilmente un vetro rotto, è morto in ospedale alla Gruccia poco dopo l'arrivo. Il giovane diplomato in una scuola valdarnese dipendente di una ditta di ponteggi viveva a Montevarchi. Aveva una figlia e un cane con il cuore era facile incontrarlo in centro. Aveva giocato a basket dunque era noto in vallata. Tanti messaggi di cordoglio e la commozione. La notte tra sabato e domenica scorsi aveva partecipato al concerto di un noto rapper dominicano nella discoteca che lo ospitava in zona Poggilupi a Terra Nuova Bracciolini. Poi alle 6 di mattina la lite degenerata in rissa tra una ventina di persone ed il ferimento mortale. L'esame delle telecamere e l'ascolto dei testimoni dovrebbero portare ma ovviamente riservo e totale ad individuare il responsabile.